Carissimi amici, ecco, qua un grande saluto da Medjugorje. Siamo nel ormai triduo delle apparizioni, ci avviciniamo a 40 anni e qua, grazie al cielo, pellegrini hanno cominciato a rispondere, anche parrocchia con tante attività bellissime e ringraziamo a buon Dio per tutto quello che fa. A modo speciale vorrei salutare tutti i radioascoltatori di Radio Maria e con aiuto di Dio ci sentiamo 25 per messaggio che la Madonna normalmente dà e aspettiamo con grande gioia anche questo 25 giugno 2001 che sarà un'apparizione straordinaria perché esattamente entriamo nel 40 anni della presenza di la Madonna in mezzo a voi. Vi saluto tutti e uniti nella preghiera. Io, quando è il momento dell'apparizione, pregherò per tutti voi e Dio vi benedica e viva la Gospa con tutto cuore. Un bacio, un bacio a tutti voi.